Il primo gioco 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 Devastante il dritto Della Williams Questo su cui si è servata Williams Qui invece è accorciato Ancora un grande dritto Della Williams Corso di distanze con l'Ace Serena Williams Servizio dritto Ancora un come on Da parte di Serena Si è salvata in maniera fantastica Williams Sarà risposto ancora Back profondissimo Sulla riga Si è salvata la Williams Che ha poi Chiuso con il dritto in avanzamento Tre punti Uno più bello del Provato a spostarsi A giocare il dritto Anomal La risposta Vincente Della Williams D'incontro Corrovescio 30-15 Faro del match Lo commette Serena Williams Che però Rimedia subito Con l'Ace Al centro Piazzato Più che potente Ottimo Contropiede Con il rovescio Serve ad uscire Poi gioca Scappe la risposta Di rovescio La Stosor 40-15 Palla è buona Arriva l'Ace Di Serena Williams Sbagliare la risposta Di dritto Il lungorino Vincente di rovescio E' 30-0 E' 40-0 Con lei Tiene 15 Sbagliare la risposta L'ultima risposta 0-15 Antico la prima Trostoso Si abbassa leggermente Ora perché Risponde bene Will Passare la risposta Dopo la risposta Passare el surprisingly Vincente di rovescio Allora è leggermente largo questo diritto gran servizio al centro il camon di Serena Williams che vince tre stecca col dritto su una palla molto pesante giocato un recupero col back sulla riga la Williams una palla in corridoio il dritto della Sdozer recupera un minimo e sbaglia il dritto dopo il servizio sono tre punti consecutivi il passante della Williams vincente combinato un disastro con questa vole alta tra l'altro una palla che forse poteva anche uscire della Williams la giocata con un passante particolarmente alto ma anche forte è lungo il dritto è lungo il dritto si risponde la grande poi comanda con il set point numero quattro il terzo di questo tie break gioco un'altra grandissima seconda e porta a casa un primo set lottatissimo è lungo il terzo di spazio la scuola di l'amera I don't know really I just kept fighting and I thought you know Sam played so well today and I was just what if I could just hang out here and just do the best I can and I could hopefully win. Serena talk about the balance of staying so calm and so cool and so collect but at the same time being so aggressive on those key points in the tiebreaker what do you think was the difference? I don't know I just think I got a little lucky on some shots to be honest I really was down and out and I thought darn it's going to be a third set but I really don't know so I just am happy. Did the fans in Cincinnati help you out Serena it means a lot to come back here and feel all that love? Yeah it means a lot I love my fans here in Cincinnati so thank you very much I love y'all. Serena we have a special fan here we're going to autograph some tennis ball to hit him out to some fans will you be so kind and do so Serena Williams autograph so you